percorrido al soli ok potrei fare come stile ma chi aveva la fastidio 4 qua tu o perci no io credo ah vero perchè siamo in live stai scendo un nuovo gioco che è finissimo vai a vedere la mia canale forza orison e solo non farsi ignorante in un gioco di auto stai scendo un nuovo gioco che si chiama foro norma bellissima dopo vedere il mio canale bellissimo ma non vado mai a vedere il tuo canale per maschi però che muori di canto va bene tu sento in colpa quando lo dico però d alla luna io ragazzi non usare veramente dai secoli come è che si usa sta roba ma è uscito a schimpante un fornaio si è fatta no è la merediglia è una meraviglia quella skin no anche se non gioco pante o la copro non me ne frega niente è bellissima ti dico che ma è una meraviglia di skin oh c'è Gnar 3 dove lo provo anche quella di Olaf è vero barbone Olaf paolo cannone grazie regali per il decimo anniversario weekend di bonus e ringraziamenti dei fondatori di Riot sapete cosa ci faccio con i loro ringraziamenti? ci pulisco il culo oh che simpatico mamma mia cerchiamo operi in vigno signori eh attenzione siamo in live dal vivo oh perchè appare sta cosa? di te morto mamma mamma orcontinu mamma ah bello siamo in live guardate qui 3 muovetevi che indocendo quanti what the fuck you do fuck man shit disriven so good con la skin arcane di chimico I like dicks mmm dicks mmm cazzone oh per cui questo vuoi ingeggiare c'è un visualizzatore capo oh oh vabbè guarda il farm ok ma tu sono forte 20 million al minuto 10 come vedermi la live io come si chiama il tuo canale tutto il o 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 I.I.T.N METE METE E' MORTTA No No Per la Che ti Che questa live la sto facendo Danno per il pass perché comunque È 240p Perché il programma è impossibile Usare 200m Mi sono usciti un casino di hop Free hopper Hopper FR O.F.R Fibri I.I.G.T.G.E I.I.T.G.E I.I.T.G.E METI UNA WORLD QUA Ripetendo che non ti chiamati più pressione Perché non ti trovo Sbagliato Sbagliato Alla Plus Un fatto In streaming Care la skill E' Ma che ammazza Perché No Quero Che Che Ho 8 come molto o signori questo è skill ragazzi volete ve l'hai imparato no c'è vladimiro c'è vladimir putin a mano e strumento come mi insegni no 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 per il mare becca per il giugno di un po porco Oddio, siamo arrivati a 300 spettatori Sì, li posso vedere dal No, mi invi Avvi la partita di League of Legends Tre spettatori Finisci la partita, vai a vedere 300 Oh, faster di Simplayer Mi mandi la mia live Su message La sto ancora cercando Ho porto Hopping, Hopping In casi delle live di questa live di quella vecchia Prodicare Infatti erano visti abbastanti No, perché non ti sto trovando Ho trovato un casino di Hopping 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 Hopping, Hopping Hopping, Hopping 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 Minchia sei madri lnat Madri blast M carre lnat Micky Web del cazzo però così così come l'ho vedato male l'ho vedato male l'ho vedato male ma non sei cosa strana sai che faccio direttamente su facebook che tu avevi condiviso il tuo canale un po venito è perchè sta troia è stronza cioè c'è un po di merda ehi ma nel fiamolo se che non sono reattivo come di io però mate nell'ultima live che ha fatto il microfono il mio si sentiva basso che non sia anche quello di fiocca come si sentiva basso mate cosa mi convi si nell'ultima live si sentiva basso oh porco dici però io mai franti fa sta zotta i love dix ma come fa con una spada di dora a farmi 100 0 dai che bella la vita ben già ma vero di love legend si un gioco per ritornati mentali però te lo scrivo su ts dai per odio dai dai con una spada di dora io c'ho la tia ma te le scarpe un'altra spada e mi uccide col punto cosa fai che non hai ma che devi morire guarda eh ma il bcn è di bc bc netto un po' più un po' più un problema ecco la live lol con fiocco e ci sono anch'io siiii ho voluto attenzione vai 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 nooo pezzi di merda nooo perchè sono antissimi youtube sei in live non so tc tot ma sono su youtube e se hai scritto per segnali se mi gabbiato otto minuti fa e su youtube me la porta k e 200 cazzo come sei su youtube o su Twitch? su Twitch non ho ancora esperienza lavorativa ma guarda che nooo ecco stai vedendo la live ehm non so perchè si vede in 240k dai ma rival fa schifo che champ di merda oh è inutile inutile di merda cazzo mo c'è qui cosa fa qui questo cosa la ulti che tanto muovi lì l'opera morto l'opera morto ma va a me a 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 posto poi anche perchè il carrile che ho mai usato in vita mia vedi si sente bene io ho visto visto ops ok ma io che sta roba non l'hai vista in lightmail poi li ho mettato li alquilicolo ma no no te sono morto di nuovo quando è finita l'idea passata perfetto l'unico spettatore dovvino chi è? io dal telefono non vado stupassare ma è che poi ci sono due spettatori attuali 1 ah è vero io sono c'è che cazzo fatte allora allora vuoi vedere adesso ti dico il punto giro oh figlio di puntana tra un anno tra un anno non ci sarà più uno spettatore totale vicino a quell'uno ci saranno 30 te lo dico io ah che bello e' un po' guarda con punto punto po' 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 anche se non non penso di poter fare molto propria che sono solo questo dopo ho comunque fatto 27 visualizzazioni l'ultima live con chi fa l'oro posto no 70 anni ho fatto in mente a vero 70 poi 27 l'altra ho fatto 70 sicuro no io non si sentiva quasi quella live non so perchè settimana quanta durata la live di fifa e over 1 ora un quarto com'era overwatch bello vero over o giocato in live però non veniva nessuno ho messo fifa e sono venuti tutti comunque avrò giocato per quei pochi giorni mi piace un botto me lo coprerei subito se solo non costasse 60 euro ancora ma mi ormai non ha più senso spenderli perchè l'utenza di overwatch sta lì infatti no man sky giocati ha già perso più del 50 per cento 90 è vero però secondo me del potenziale assurdo farlo meglio il gioco sono sbagliato parlo molto meglio ma il fatto di che è stato il gioco il gioco il gioco autistici che se c'è qui io qui lei qua io io non posso io non posso scappare no il marone click il gioco di League of Legends è bello quando vinci il gioco di League of Legends non è bello neanche quando vinci che quando vinci ti passa la voglia di giocare ho spaccato il tasto l'ho visto dall'ultima faccia che non è fatissimo scegliere beh perchè c'è bisogno di rifare sempre no ne fiamo blitzcrank dai sono morti di più mazo sta lei ve la devo scogliere però cioè il copyright ci rendiamo questo cuore che prese non lo sai sottofogare non c'erò mai più divertita non so tempo di merda oh lucia no ragazzi vado un secondo a prendere una cosa e arrivo un minuto va bene non c'erò mai 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 eccomi quasi finita la pace or questo e sono un minuto voi avete provvedato no ok ah 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 no come dici che ore sono direttamente 2251 vabbè da anzi dopo me ne faccio ma sai che ora sono voi vabbè tipo 51 loro le macchine mi fa un pochino sono morto bello dammi quella strana non c'erò mai Non c'è molto supporto, però non c'è vero e non ti sento da solo, non ti sento da solo, ma nemmeno che volo perché quando posso andare, bravi, tu vai piano qua. Ma a me manca ancora un po' ragazzi. se qualcuno mi dà la casa mi dà il cuore di me e dopo le mie cienze con le mie cienze se sono in mare la festa gizzo se mi sono a me e dopo le mie cienze ne segui nel coperre non del voglio perchè copro non d'orgoglio da te e tu prendi da me come fosse il nostro giorno poi lo stesso pare Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 S 4 con g io voglio provare che non se mi lasciate la coppola allora di carri dopo posto giusto che so usare non vive per vedere se è bella ed è tornata in meta mei ho trovato la soluzione a tutti i problemi sono a camicia full avviva con le banane no dai soraka mori 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 mi trovo io la soluzione usa tu un armi della sciamera dopo trovato comunque ho flasciato e lei è più veloce con un flash lei è più veloce una e una tripla mute e report se è vero ma giusto il centro piccoli per una norma dei signori voi facciate guardando lo streaming uno spettatore tu che stai online e stai guardando questo streaming dovresti metterti vergogna lo sto vedendo per problemi tecniche e salta che è morto salta che è morto salta che è morto il territorio e da un attimo non posso io risando tu con i pacchi second mondo dopo un po' strano per ora devo fare un raga mi chiamo a marchio la mia oltre al sb io d'oro figlio porcadio ma la maglietta con me non ci cazzo non ho avuto giustizia scommati un pochino s amici di spazio netto ma tutti i conti conciuta salvo bravo. ma davvero un metallaro che gioca a calcio esiste è uscito io ho deciso no il video giude è bellissimo si è vero ma il cazzo vuoi dire che non c'è ma muore oh muore, spacco la faccia psicopatico nerf a vladimir ci sta ci sta sono uno che è dimirti o cane che è inutile fa schifo con il centro da fiammerele invece o pen oh è zitto no